Caprera è un'islazione piccola di 6 milioni di costo di Sardinia, Italia, localizzata nel Maddalena archipelago. L'islazione della Maddalena, nella strada di Bonifacio, è una destinazione turistica e è famosa perché è da dove Giuseppe Garibaldi è ritrovato. L'islazione è stata dichiarata una riserva natura per le specie particolari di sardinia che vivono sull'islazione, come la Seagull e per il suo boar. È la seconda più grande dell'islazione dell'archipelago e ha una superficie di 16 km2 e 45 km di costo. Nell'islazione del sud-western c'è un centro di sardinia molto importante e le mani e le mani che possono essere trovati sulle linee di costo, rendono l'islazione di più facile. L'islazione del sud-western c'è un po' per i fani di naturalisti e i fani di arqueologico. Non c'è hotel, ma solo un resort con bungalow. Nell'islazione del sud-western c'è un po' per i fani di più facile, questo meraviglioso sito consiste in un po' di fai che dotano tra le pini, un po' per i fai che amano tutto ciò che è nautico. Nell'islazione del sud-western c'è un po' per i fani di Sardinia. Nell'islazione del sud-western c'è un po' per i fani di Sardinia, 20 minuti di lavoro da Garibaldi, Home & Tomb. Questo villaggio di Sardinia ha la più grande scuola di Sardinia. A Caprera il vento è buono per le persone dell'uomo e delle abilità. Tennis, futbol, archeria, judo e diverse classi di fitness sono anche sull'agenda. L'esplorazione del sud-western c'è un po' per i fani di Sardinia. Non per farvi l'esplorazione delle luci e delle basi, entro da snorkello o da boccia. Un villaggio eccellente per le famiglie. I bambini possono avere la scuola per una vita. Anzi, il villaggio è fermato. Ho lavorato lì nel 2006, prima la scuola del villaggio. L'operatore ha deciso di restruirlo e dare il servizio superiore, e i fatti pre-fabricati e l'acqua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.